Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Gianni Jean. Buona domenica, cara sorella e caro fratello d'ascolto. Questa è l'ultima domenica d'avvento. Domenica prossima sarà già il Natale. Buona domenica e benvenuto per questo momento di riflessione, di preghiera, di ascolto della parola di Dio. Il Vangelo di Giovanni, come sai, il quarto Vangelo inizia con un annunzio. Dice nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio. Ebbene questa mattina noi vogliamo fermarci per chiedere al Signore di illuminare questa giornata e questo ultimo tratto di cammino che ci separa dal Natale. Dio nostro vogliamo chiederti di scrivere tu una parola all'inizio della nostra vita in questa settimana. Vogliamo chiederti di scrivere una parola, la tua parola, che ci dirà quale sia il senso della nostra origine, quale sia il senso del nostro orizzonte, quale sia la nostra speranza e la nostra vocazione. Signore nostro, la tua parola viene per prima. Facci la grazia di saperla riconoscere ed accogliere attraverso il tuo Spirito. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, nostro Signore, benedetto in eterno. Amen. Celebriamo il tuo Signore che ve li e vuoto e la sua benidità pura in eterno. Ho cercato il Signore e gli mi ha risposto, il Signore è la mia salvezza, alleluia, alleluia, nota lui in ogni età. Il testo che ci viene proposto per la nostra riflessione di oggi è tratto dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 11, alcuni versetti. Si tratta degli ultimi giorni di Giovanni il Battista. Giovanni avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? E Gesù rispose loro, andate a riferire a Giovanni quello che udite e che vedete. I ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano. I lebrosi sono purificati, sono guariti e i sordi odono. I morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Mentre essi se ne andavano, Gesù cominciò a parlare di Giovanni alla folla. Che cosa andaste a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento. Che cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbidi vesti. Quelli che portano delle vesti morbide stanno nei palazzi dei re. Ma perché andaste? Per vedere un profeta? Sì, io vi dico, più che un profeta. Egli è colui del quale è scritto, ecco, io mando davanti a te il mio messaggero per preparare la tua via davanti a te. In verità io vi dico che tra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista. Eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. E' una domanda terribile quella di Giovanni il Battista. Sei tu che dovevi venire? Sei tu Gesù di Nazareth quello che doveva venire o dobbiamo aspettarne un altro? E' come se Giovanni il Battista dicesse tutta la mia vita dipende dalla risposta che tu darai a questa domanda. Tutta la mia esistenza io l'ho giocata su questa questione. e se mi fossi sbagliato io sto per morire, sto per essere messo a morte e se tu Gesù non fossi il Messia che tutti aspettiamo e per il quale io sto per morire. Immagina per un attimo sorella e fratello che mi segui, che mi ascolti, che mi vedi attraverso questo culto immaginati non solo la delusione ma l'immensa sofferenza che abita il Battista mentre strapronunciando questa frase. Lui ti ricordi chi fosse il Battista, lui che non voleva battezzare Gesù al Giordano perché non si sentiva degno di battezzarlo anzi voleva essere lui ad essere battezzato da Gesù lui che da lì a poco, a pochi giorni, sarà fatto decapitare da Erode lui che non vedrà il Signore Gesù crocifisso ha visto soltanto l'inizio della sua predicazione ma non lo vedrà guarire gli ammalati, restituire la speranza ai poveri non lo vedrà processato, insultato non lo vedrà soprattutto risorto ecco Giovanni il Battista esce all'inizio del Vangelo, esce di scena con la testa ammozzata per il capriccio di una ragazza di cui Erode si innamora la testa del Battista di lì a un paio di giorni verrà portata a questa ragazza su un vassoio su un vassoio d'argento sei tu che dovevi venire Gesù di Nazareth e se mi fossi sbagliato perché io adesso sono in prigione e tu Gesù Nazareno non hai ancora trasformato il mondo non hai ancora neanche trasformato la Palestina questo lembo di terra che aspetta redenzione, che aspetta libertà è una domanda inquietante, una domanda tragica vorrei dire è una domanda che anche tu e anch'io mi sono posto molte volte nel corso della mia vita la paura la paura che Gesù non sia il Messia tanto atteso quello che avrebbe dovuto che dovrebbe trasformare il mondo che dovrebbe trasformare il mio dolore la mia sofferenza in una vita piena è una domanda sconvolgente adesso Giovanni il Battista è in prigione la morte è praticamente certa lui che ha denunziato la corruzione di tutti ha rischiato la sua vita su quel Signore che stava per venire ha giocato tutto e cioè che cosa ha scommesso su Gesù il Nazareno? ha scommesso il senso della sua vocazione e per il Battista la sua vocazione corrispondeva alla sua vita il senso della sua vita era la vocazione e che cosa attendeva il Battista? attendeva che il Regno di Dio venisse che il Messia si imponesse con la forza o con il terrore che tutti fossero costretti ad inginocchiarsi davanti al Messia che era venuto e invece questo Messia è lontano io dice il Battista io sono in prigione e tu non sei neppure in grado di liberarmi non riesci neppure a restituirmi la libertà non sai neanche affrancarmi da questa prigione quante volte nel corso della nostra vita anche tu ed io probabilmente abbiamo detto al Signore Gesù non riesci non riesci a liberarmi dalla depressione dalla malattia dalla precarietà dalla malvagità dalla miseria di questo tempo pensa a quante persone in questa giornata in questo tempo di avvento sono costretti a fare il conti con tutto ciò che di negativo abita la nostra giornata terrena Giovanni Battista quello che aveva parole di fuoco e che diceva la scure ormai è messa alla radice degli alberi il giudizio verrà sarà un giudizio terribile un giudizio dove tutti dovranno riconoscere la forza del Messia e invece nulla è successo ce n'è abbastanza ce n'è abbastanza per essere scandalizzati perché tu sai tu sai no sorella e fratello che il termine scandalo significa sostanzialmente inciampo scandalo significa che c'è qualcosa che mi fa inciampare nel corso del mio cammino e che mi fa cadere e forse non riuscirò neppure più a rialzarmi il Battista inciampa o sente che sta per inciampare e questo succede anche a me succede anche a te quando nel corso della tua vita una malattia un lutto una disgrazia qualcosa di negativo ti fa inciampare e dici ma signore sei tu quello che doveva venire o dobbiamo aspettarne un altro il Battista riesce però a parlare dei suoi dubbi riesce a porre la domanda riesce a chiedere a Gesù ma ne è valsa la pena io domani sarò messo a morte ne è valsa la pena seguirti preparare il tuo cammino ebbene Gesù non risponde né sì né no non può rispondere sì o no non vuole dare torto al Battista dal punto di vista della sostanza della domanda non può dirgli no hai sbagliato tutto perché effettivamente il mondo non è stato trasformato e non può però neanche dargli ragione perché perché il Battista formula la domanda in in modo sbagliato e così Gesù non risponde dice soltanto ai discepoli del Battista andate a vedere guardatevi attorno andate a vedere ciò che sta succedendo e poi andate a riferirlo al Battista che cosa gli dice che cosa dice loro i ciechi recuperano la vista gli zoppi camminano i lebrosi sono purificati cioè sono guariti i sordi odono i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri belle affermazioni ma dove sta accadendo tutto questo si chiederà il Battista dov'è che i ciechi stanno adesso vedendo dov'è che hanno recuperato la vista dov'è che i morti stanno risuscitando è vero Gesù ha ha guarito alcuni ciechi uno, due, tre alcuni lebrosi ha restituito la vita ad alcune persone ma è tutte le altre persone che invece non vedono che non odono che sono sfruttate che sono oppresse che sono uccise ebbene bisogna cercare ovviamente di interpretare le parole di Gesù proviamo a farlo attraverso queste frasi che Gesù pronunzia anzitutto Gesù dice i ciechi vedono i ciechi vedono ma sei sicuro che Gesù parli dei non vedenti cioè delle persone che non vedono ecco vedi io ho avuto un amico non vedente era una persona che capiva che comprendeva le cose che lo circondavano le persone che lo circondavano meglio molto meglio di me cioè riusciva a vedere le persone e le cose con grandissima chiarezza in modo estremamente lucido perché per Gesù i ciechi non sono i non vedenti i non vedenti hanno un problema legato semplicemente alla vista ma si può essere vedenti si può pensare di vederci bene e di non riuscire invece a comprendere ciò che succede attorno a te pensa pensa al bambino cieconato quando portano questo bambino a Gesù e gli dicono ma chi è che ha peccato perché questo bambino sia cieco fin dalla nascita lui o i suoi genitori Gesù risponde né lui né i suoi genitori quante sono nel nostro tempo non solo nel tempo di Gesù le persone che non vedono al di là del loro naso o della punta delle loro scarpe e Gesù allora ti dice guarda se mi segui io ti restituisco la vita ti faccio ti faccio soltanto un esempio oggi noi assistiamo continuamente ai talk show televisivi ai dibattiti televisivi dove ascoltiamo delle cose terribili semplicemente prendi per esempio il dibattito sui migranti le persone che dicono no non possiamo accogliere non possiamo permetterci nulla vengono a rubarci il lavoro eccetera e non hanno la capacità di capire di guardarsi attorno di comprendere che in realtà per esempio il nostro paese ha bisogno per avere un futuro ha bisogno di queste persone a Pinerolo non so se qualcuno se ne è mai accorto vi è una piccola targa nella piazza del mercato in piazza Fontana una targa che ricorda un massacro un piccolo massacro dell'estate del 1883 quando 8 o 9 piemontesi sono stati massacrati di botte letteralmente massacrati di botte in Francia a Degue Morte un piccolo luogo per noi protestanti importante perché vi era vi è tuttora quella che era la torre di Costanza che imprigionò per un centinaio di anni le donne Ugonotte ebbene questi piemontesi che erano andati a lavorare a Degue Morte furono massacrati di botte perché perché gli abitanti del luogo dicevano vengono a rubarci il lavoro e tu puoi leggere oggi i loro nomi non lo faccio adesso perché non ne abbiamo il tempo furono massacrati uno morì un mese e mezzo dopo di Tetano alcuni riuscirono a rientrare in Italia ma molti rimasero laggiù ecco allora ci vediamo bene tu ci vedi bene quando parli di problemi grandi ed estremamente complessi come quello dell'emigrazione oggi o di o di tutto questo di tutte queste persone che cercano dignità e vita nei nostri paesi ecco Gesù dice se tu mi segui io posso restituirti la vista oppure parliamo degli zoppi che camminano io non credo che Gesù parli delle persone che hanno problemi di deambulazione ma parli di persone che non hanno più orientamento e che non hanno più la forza di camminare nel loro tempo io ho conosciuto molto bene anche a livello personale anche a livello familiare delle persone che avevano un handicap motorio molto grave eppure erano persone che sapevano esattamente dove volevano andare quale fosse il senso della loro vita oppure ancora Gesù dice guardate i lebrosi sono guariti sappiamo bene che Gesù ha guarito qualche lebroso non ha guarito tutti i lebrosi ma che cosa ha fatto Gesù dov'è che ha vinto la lebra nell'abbracciare i lebrosi Gesù ha detto non c'è più separazione fra i lebrosi e le altre persone tu sai che la lebra era una malattia terrificante esiste ancora peraltro ma era una malattia che creava un vero e proprio apartheid una vera e propria separazione dagli altri ebbene Gesù ha abbracciato i lebrosi non ha avuto paura di loro ha detto può esistere una società o un mondo in cui non ci sia separazione fra una categoria di persone e tutti gli altri oppure ancora dice Gesù i sordi odono e cioè non parlava di persone che avevano problemi di udito ma parlava di persone che non erano più in grado di ascoltare di udire ciò che accade attorno a loro le grida delle persone che nel nostro tempo gridano ma nessuno li ascolta il problema non è l'udito è l'indifferenza e la rassegnazione e la chiusura oppure ancora Gesù dice i morti risuscitano io non ho mai visto i morti risuscitare dopo le centinaia e centinaia di funerali che ho presieduto ma Gesù lo sappiamo bene rovescia il discorso sulla vita e sulla morte pensa pensa a che cosa dice a Marta e Maria quando il suo amico Lazzaro è morto quando arriva alla casa di Marta e di Maria e di Lazzaro e Lazzaro è già da quattro giorni nel sepolcro dice a Maria e a Marta io sono la risurrezione e la vita non sarò la risurrezione e la vita sono nel momento in cui tu mi incontri capisci che cosa sia la vita e la vita che cos'è la vita è la possibilità di vivere delle relazioni oppure pensa ancora se vuoi alla parabola del figlio al prodigo dove Gesù dice era morto ed è tornato alla vita non era morto non era deceduto dal punto di vista del decesso fisico ma questo giovane torna alla vita nel momento in cui riconosce di nuovo il proprio padre la propria madre in cui si riallaccia si ricrea una relazione in cui c'è un momento di riconciliazione Gesù ha creato relazioni e ti dice se mi segui tu conoscerai il senso della vita perché le relazioni con le persone che ti circondano saranno ricostituite saranno delle relazioni nuove concludo Giovanni il battista dunque che ha preparato la strada al Signore Gesù è stato un grande Gesù lo dice in questo testo è stato un grandissimo profeta è stato grande perché ha saputo porsi anche queste domande sei tu quello che doveva venire o ne aspetteremo un altro la cosa fondamentale è porsi se tu sei accompagnato dai tuoi dubbi come me dalle tue zone d'ombra e intanto porsi queste domande porre la domanda questo è il primo passo per poi recuperare la vista per guarire dalla propria rassegnazione dalla dalla propria paralisi per avere restituito l'udito per ritrovare la voglia di vivere Giovanni il battista è stato dice Gesù il punto più alto che l'umanità può raggiungere perché ha preso sul serio e fino in fondo la sua vocazione ma Gesù il Gesù che aspettiamo domenica prossima è infinitamente più grande se fai attenzione Gesù non non rimprovera il battista e non rimprovera neppure te sorella e fratello è pronto semplicemente ad accoglierti il battista comprenderà attraverso le parole di Gesù che il segreto della vita non è quello della forza dell'imporre un proprio regno ma è quello dell'amore il Giovanni Giovanni il battista comprenderà che la sua esistenza è stata amata Gesù non minaccia sa che siamo tutti fragili siamo tutti vulnerabili come il battista siamo tutti disorientati come era lui ma siamo amati sa che per guarire il mondo ed il tuo cuore solo il linguaggio dell'amore può funzionare Giovanni il battista è stato il più grande dei profeti ha vissuto ciò che ha predicato e creduto ma ciò che annunziava era più grande della sua predicazione era l'amore che Gesù è venuto ad inaugurare la dimensione dell'amore che ti dice che la tua vita è custodita è amata benedetta e che per questo puoi incamminarti verso il Natale per accogliere per ricevere per riconoscere per decifrare il dono che Dio vuole farti che è il dono di un Signore che viene a condividere con te la tua esistenza e a darti una prospettiva che va oltre la morte ammè ammè Un medesimo fatto di fede, di sperme, di vincolo insieme, col nostro possente, Signor. Fratello, solleva il fratello, oppresso da grave il fratello. Tu esulta, sei gode, le tante melode, al profito nostro Signore. Vogliamo raccoglierci in preghiera. Signore, Dio nostro, la Tua voce non è distante. E' una voce che possiamo ascoltare, che ci dice che il mondo, se siamo accompagnati da Te, viene trasformato. Possiamo recuperare la vista e l'udito. Possiamo ritrovare la voglia di vivere, la passione per la vita. Possiamo essere restituiti ad una vita piena. Possiamo essere evangelizzati, cioè davvero ricevere una buona notizia. La notizia che ci dice che la nostra vita è al sicuro nel palmo della mano di Dio. Signore Dio nostro, noi sappiamo che Tu ti sei abbassato affinché questa parola ci raggiungesse. E questa parola ci ha innalzati. Tu ti sei fatto povero e noi ci siamo, noi siamo stati arricchiti. Tu sei venuto a noi perché sapevi benissimo che noi non potevamo andare a Te. Sei stato un essere umano, una creatura umana, per farci partecipare della vita eterna. Ecco, vieni oggi nel nostro mondo. Vieni a restituirci la certezza che il segreto dell'intera vicenda umana e anche delle nostre vicende personali è proprio lì, nel cuore della vicenda di Gesù. Noi siamo uomini e donne amati ed insieme possiamo lavorare per un mondo migliore. Noi pensiamo a tutte le persone che oggi sono in guerra, anche nel cuore dell'Europa e ovunque nel mondo. Tutte le persone che non hanno abbastanza da mangiare. Questo è uno scandalo, è una bestemmia terribile per il nostro tempo. Tutte le persone che si sentono sole, disperate, vieni tu ad aiutarci a creare un mondo un poco più innocente. Vieni a darci la capacità di dire alle persone che camminano insieme a noi che siamo amati ed amate e che la nostra vita è al sicuro con Gesù di Nazareth. Vieni tu a farci il tuo dono più grande e non avremo paura. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo o anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporra la tentazione, ma liberaci dal male. Tu al regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso la pace del Signore nostro Gesù Cristo ti accompagna. E il Signore che ti dice a te, sorella e fratello, ti dice non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho riscattata, tu sei mio. Il Signore ed il suo amore ti accompagnano. In questa settimana che ci separi dal Natale, il Signore ti benedica e ti custodisca, ora e sempre. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Gianni Gianra.